E' il più gettonato ma corsa molto aperto. Problemi per Sender Joe, 7-11 legati dal rapporto di scuderia. Arretrato, Natrum di Cazè, imitato da Mascalzone. Via la macchina. Alla chiusura, Ippolito, nei confronti di Los Angeles, cavalli che affrontano la piegata, punta subito in avanti il number one Italia. Il lancio in 14.4 chiede strada, c'è l'errore di Los Angeles, il Mattia Furioso e così passa al completamento quasi della piegata. Number one a comandare operisce, per il momento rimane number one, 32-400, number one Ippolito, Lidia Maesta, allargo il 5 di Mascalzone, pedinato dall'11 di Nievoz. 600 in 44 e mezzo, i cavalli che affrontano la penultima curva. Non ci sono variazioni sostanziali con number one che fa buona andativa e si mantiene in vantaggio. Mezzo medio iniziale in 59,6. si migliora Mascalzone che va a parcheggiare in terza posizione e Nievoz ora rimane scoperto, davanti i due che hanno buon margine, chilometro in 14 e siamo a 500 metri dalla conclusione. Per il momento non ammette interferenza il leader e anche è untouchable. Curva finale, si distende bene number one, 14 e mezzo, 1,28 e 6, tre quarti di Miglioz. E il Varenne della giovane Italia in chiaro vantaggio. Si fa notare Yuri Hans, number one per proprio conto, gettonato, voce della pista, avevano tutti ragione. Passerella, poi in seconda posizione in Mascalzone, number one Mascalzone e per il terzo sul traguardo Yuri Hans.